Questa è la voce dell'Arcadia Libera. Se lascerete che il fuoco della speranza bruci in vano, resteranno soltanto le ceneri. Ma se continuerete ad alimentarlo, sarà una speranza che creerà un nuovo e meraviglioso futuro. Volete distruggere il pianeta Tukarga? Volete farlo scomparire? Tutti hanno il diritto di vivere! Non obbedirò mai! Combatteremo per la giustizia, combatteremo per la pace nell'universo e lo faremo solo sotto il mio vessillo. Ogni leggenda immortale Ha un inizio. Siamo stati sconfitti. Ma sarà questo il capitolo finale? Vai Arcadia della mia giovinezza! Partenza! Per la prima volta al cinema, il pirata più amato di tutti i tempi. Nell'animazione originale. In un evento speciale da non perdere. Forza Illumidiani! Continuate a sparare! Adesso fuoco! Il tuo modo di agire è assolutamente... Contro le regole, giusto? Certo, perché è così che combatte un pirata! Capitano Arlok. L'Arcadia della mia giovinezza. Solo il 15 ottobre. Al cinema. sia una stella postura. CONVERSIGLVEL Grazie a tutti